In questi giorni la parola solidarietà ovviamente assume un significato particolare perché pensiamo a tutte le donne che stanno subendo le conseguenze della guerra. Se vogliamo pensare anche alla nostra quotidianità e pensare di poter tornare presto a una quotidianità più serena, dobbiamo immaginare un mondo in cui le donne riescano a raggiungere unite i loro obiettivi, ad esempio in ambito lavorativo dove ancora sono molti i passi da fare per raggiungere una vera equità con la situazione dei nostri colleghi maschili e anche in politica credo che ci sia molto da lavorare per arrivare a una vera collaborazione tra donne per raggiungere in modo congiunto le nostre finalità comuni.